Uno sguardo da vicino Eccoci qua, bentrovati cari ascoltatori con questo nuovo appuntamento di Uno Sguardo da Vicino. Oggi parliamo del tema della settimana, il salario minimo. Eh sì, perché proprio pochi giorni fa, Consiglio, Parlamento e Commissione Europea hanno raggiunto un accordo per istituire alcune regole sul salario minimo per tutta la settimana. Tutti i lavoratori europei. Naturalmente, con il diffondersi della notizia, è partito il solito coro di incensamento delle istituzioni europee su tutti i principali media nostrani. Signora mia, sapesse com'è buona e com'è brava l'Europa che pensa al bene dei più deboli e in particolare al bene dei nostri lavoratori. Più o meno è stato questo il tono degli articoli che abbiamo avuto modo di leggere in questi giorni. Ma sarà davvero così? Sarà vero che a Bruxelles è stato raggiunto un accordo capace di risolvere l'annosa questione della sottoccupazione imponendo a tutti i lavoratori un salario minimo? Ovviamente no! No, perché innanzitutto l'accordo in questione non impone a tutti gli stati UE di dotarsi di un salario minimo, ma regolamenta le leggi sul salario minimo negli stati che già le hanno o che se ne vogliono dotare. Dunque, l'ondata di giubilo cui abbiamo assistito in questi giorni per l'incombente arrivo di un salario minimo su pressione europea nel nostro paese è totalmente infondata. Ma volendo anche andare oltre queste noiose puntualizzazioni, c'è da dire che la notizia è stata recepita non solo dai giornali ma anche dalla politica italiana e in particolare il ministro del lavoro Orlando ha dichiarato che è urgente arrivare il più velocemente possibile proprio a una legge sul salario minimo. Ora, è vero che siamo in campagna elettorale per le amministrative e quindi uscite di questo tipo valgono quello che valgono, cioè poco. Però, vale la pena porsi il problema ed entrare nel merito della questione. Il salario minimo orario è davvero uno strumento normativo capace di salvarci dalla piaga della sottooccupazione? Capace di garantire stipendi dignitosi ai nostri lavoratori? Purtroppo, la risposta a questa domanda è di per sé no. Introdurre un salario minimo orario senza al contempo praticare una forte riduzione del cuneo fiscale può produrre sostanzialmente tre diversi risultati nelle nostre aziende. Primo scenario L'imprenditore, il datore di lavoro, accetta di vedere ridotti i propri margini di profitto e aumenta gli stipendi dei propri dipendenti, adeguandoli al livello del salario minimo. Secondo scenario L'imprenditore non ha la possibilità di erodere ulteriormente i propri margini di profitto e dunque quest'introduzione normativa lo mette semplicemente fuori mercato, dunque è costretto a chiudere. Terzo scenario L'imprenditore non ha l'intenzione o, più verosimilmente, la possibilità di ridurre i propri guadagni e di conseguenza decide di assumere in nero il proprio personale. Con tutto ciò che di nefasto questo implica per le garanzie e i diritti dei propri dipendenti. Bene, anzi, male! Considerando lo stato drammatico in cui si trova la nostra piccola e media impresa non credo di farvi una straordinaria sorpresa nel dirvi che il primo di questi scenari sarebbe piuttosto improbabile o che comunque riguarderebbe un'esigua minoranza delle aziende italiane. I principali risultati di una mera introduzione del salario minimo purtroppo sarebbero quelli esposti nel secondo e nel terzo scenario. Naturalmente, a meno di non scegliere una soglia minima per la paga oraria davvero bassa. Ma a quel punto tutta l'operazione sarebbe servita ben poco a tutelare i lavoratori e in effetti, piccola parentesi, questo è proprio quello che è successo in diversi stati europei, in particolare dell'Est, che possono vantare un salario minimo ma che di fatto non garantiscono né diritti né condizioni decorose ai propri lavoratori. Ovviamente, sia ben chiaro, tutt'altra storia sarebbe quella in cui, a fianco all'introduzione del salario minimo, venisse praticata una forte riduzione del cuneo fiscale. Fatalmente, però, ridurre la tassazione sul lavoro significherebbe ridurre il gettito fiscale e dunque dover espandere il deficit pubblico. Cosa a cui, guardo un po', sono contrarissimi proprio i principali promotori del salario minimo, ossia le istituzioni europee e, in questo momento, qui in Italia, il PD. Insomma, parliamoci chiaro. Fin tanto che il mercato del lavoro rimane, per l'appunto, un mercato, il prezzo del lavoro sarà il frutto dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro. Dunque, per rilanciare i salari in Italia servirebbe, prima di tutto, rilanciare l'occupazione. È futile pensare che si possa risolvere il problema delle basse retribuzioni semplicemente vietandole. Ciò che occorre davvero è che lo Stato torni a essere protagonista della vita economica del Paese e che lui per primo crei posti di lavoro, non soltanto in tutti quei settori della pubblica amministrazione, della sanità, della scuola, che risentono di organici sempre più ridotti, ma anche nelle grandi aziende di Stato di cui avremmo un disperato bisogno, soprattutto in tempi movimentati e convulsi come questi, in cui dotarsi di una strategia industriale che ci renda un tantino più indipendenti da ciò che succede in giro per il mondo non sarebbe affatto male. Se lo Stato italiano facesse tutto questo, se davvero lo Stato assolvesse al proprio ruolo e garantisse il diritto costituzionale al lavoro, beh, non ci sarebbe alcun bisogno di nessuna legge sul salario minimo. Sarebbe infatti la contrattazione collettiva a garantire adeguati diritti e un'adeguata retribuzione al lavoro. A riprova empirica di ciò che sto dicendo, vi basti un dato. Dei sei paesi europei, o meglio, dell'Unione Europea, che non hanno una legge sul salario minimo, la metà sono i paesi scandinavi, Danimarca, Svezia e Finlandia, che non sono certamente noti per i bassi salari, ma che al contrario svettano in cima alle classifiche europee proprio per il livello medio delle retribuzioni. Insomma, non so se sono stato abbastanza chiaro, allora lo dico in maniera ancora più brutale. Tutta questa wave, tutta questa storia del salario minimo è puro fumo negli occhi. E d'altronde, ci si poteva mai aspettare qualcosa di buono per i nostri lavoratori da parte di quelle istituzioni europee che condannano alla disoccupazione strutturale più del 10% degli italiani che vogliono lavorare? Ci si poteva mai aspettare qualcosa di buono da un provvedimento europeo che viene ripreso dal ministro del lavoro targato PD? Dai, siamo seri. Se è vero che dai frutti si riconosce l'albero, è anche vero che dall'albero si possono riconoscere i frutti. E dopo questa paracitazione vagamente biblica, io vi saluto. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!